Siamo arrivati al momento dell'ospite e sono ben contento di dare il benvenuto in studio alla nostra ospite di questa mattina, Sofia Giacomelli, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te Sofia. Allora oggi si parla di arte ragazzi, ragazze, mi raccomando. Oggi parliamo di arte con un artista che anzi, poi andavamo fuori onda, ha appena smontato una mostra qui a Milano e pronta già con le valigie, si mettono i quadri in valigia, si mettono, non funziona, pronta per andare a Venezia. Sì, sì, esatto. Ho appena concluso la prima mostra personale qua a Milano, nello spazio Chiamami. Ah, sì, via Laghetto. Sì, esatto, la Onlus dietro al Duomo. È stata una mostra patrocinata proprio dal Comune di Milano e organizzata in occasione della giornata sulla salute mentale da Milano for Mental Health e intitolata Lampi tra conflitti e consapevolezze e curata da Maracozzoli, vice direttrice dell'associazione Infinity Art con sede legale a Seregno. Ma dimmi un po', ma che cosa abbiamo, cosa ci siamo persi se non siamo venuti o cosa abbiamo potuto vedere se siamo invece venuti lì in via Laghetto? Cioè quali sono le tue opere e come le realizzi? Sì, si trattava di una piccola esposizione di 22 opere relative al tema dell'identità, della consapevolezza del proprio corpo, della donna e tematiche psicologiche relative anche alla propria consapevolezza e alle proprie inquietudini e ai pensieri più intimi e interiori. Era un percorso di 22 opere che partivano dai pensieri, dagli aspetti più cupi della nostra esistenza fino ad arrivare a una metamorfosi, a una consapevolezza. Infatti perché la dipingi più cupa di quello che è, devo dire, io ho qui davanti alcune delle tue opere, detta così con le parole che mi racconti mi aspettavo cose nere, buie. In realtà no, comunque c'è tanta luce anche, c'è tanto anche e mi piace molto spazio. Sì, esatto. La mia è una ricerca pittorica in realtà che nasce svincolata da tratti di una formazione accademica. Ecco, non ho mai studiato arte, ma sono sempre stata appassionata e nasce in realtà in seguito a un periodo di solitudine e di ricovero. Tuttavia per me è stata una forma anche terapeutica che mi ha permesso di trovare quella luce interiore. Quindi vuole raccontare anche in un certo senso la storia della mia vulnerabilità, ma anche rinnovata ciclicità. Sono tanti, anche vedo appunto gli acquarelli, dicevi prima che tu fai tanto questi. Alcuni proprio in bianco e nero sembrano quasi, sembra quasi facile visto così. In realtà immagino che c'è un grande lavoro dietro, perché davvero due tratti e viene fuori di piacere. C'è uno, in questo momento, di una donna in piedi con tanto di cappello. Praticamente ci sono due tratti di pennello, ma c'è tutta una storia in quel disegno. Sì, esatto. Cerco con poche linee di dare voce alla figura, alla complessità dell'animo, ma con poche linee, sempre prevalentemente con bianco e nero, a rappresentare un po' il nostro pensiero dicotomico e quello che è la nostra vita di fatto. Però ci sono anche qualche accenno di colore, di magenta, rosso, il colore di vita. Vedo dei tacchi rossi a un certo punto, delle labbra rosse, mi sembra di aver visto prima se non sbaglio. Delle maschere colorate anche, vedo, no? Sì, esatto. Quello è ispirato al romanzo di Pirandello, Uno Nessuno Centomila, ma ci sono anche alcuni richiami alla moda. Una moda che vuole anche vestire in un certo senso, quindi sempre volti femminili, eleganti. Come mai questo binomio con la moda è una cosa, insomma, vedo anche se è molto elegante oggi. Voglio capire se è una passione, una necessità o una volontà. È una passione. Sono affascinata dall'eleganza, dalle linee morbide, seduttive e del motivo per cui prevalentemente dipingo sempre volti di donna o corpi femminili, ma sempre dai tratti consapevoli, eleganti, forti, vitali. Eleganza, hai detto, no? Allora, adesso non è elegante, infatti, questa domanda. Ma quanti anni hai? 22. Ecco, appunto, allora, 22 anni, un'eleganza però che vorrebbe dire da altri tempi, ma forse non è così a questo punto, perché insomma, noi pensiamo che siate mosche bianche così, ma forse non è così a questo punto. Cioè, non sono tutti Maranza, i 22 anni della Gen Z, non è solo Maranza, no? E saluto in regia e sanno con chi sto parlando. Ma nel senso, no? Grazie, grazie. Quindi non sei solo tu, c'è un movimento di eleganza anche tra la Gen Z? Sì, secondo me sì, 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 sì. Sì, quindi abbiamo qualche speranza di salvarci. Perfetto, bene. Ciao Ginevra, tutto bene in regia? Comunque, allora, adesso andiamo con un po' di musica, poi torniamo qui ancora a parlare dell'arte di Sofia Giacomelli e soprattutto adesso mi racconti come hai preparato, prima di tutto, vabbè, adesso che parli di eleganza, noi sappiamo che c'è una valigia che porta a Venezia, oltre ai quadri, appunto, che porterà a Venezia e che cosa potremo vedere a Venezia. Andiamo con Orianna, Don't Stop Play Music e poi torniamo qui con Sofia Giacomelli in diretta qui su Crystal Radio. Good morning Milano! Mamassai, mamassà, macusà, 8.43 minuti, Rihanna, Don't Stop the Music. Mi ricordo sempre però che quello è un campione preso da Michael Jackson, mi raccomando, diamo a Michael ciò che di Michael, come diamo a Sofia ciò che di Sofia. Siamo qui a parlare con Sofia Giacomelli, buongiorno ancora Sofia, artista, pittrice, acquarellista, non so se esiste acquarellista, si può dire, si può dire, ok. Appunto in procinto per partire per Venezia, dopo ci racconti bene appunto cosa andare a fare a Venezia, ma mi interessa questa cosa del fatto che insomma tu hai iniziato a esprimere la tua arte quasi per necessità a un certo punto, no giusto? Sì, esatto, esatto. Sono sempre stata appassionata di arte così, ma l'evento che sicuramente ha un po' svoltato... L'evento scatenante, così in Criminal Minds dicono così, quando poi... qual è l'evento scatenante? Esatto, è stato un periodo in realtà di lungo ricovero e di solitudine in una clinica per disturbi alimentari ormai 5 anni fa, un periodo che a posteriori ora penso sia stato veramente fondamentale per quella che è stata la mia esistenza, la ricerca della mia identità, ma anche di quello che è stata la scoperta di un lato di me che non conoscevo così a fondo. Ed è stato proprio in quel momento che avendo tanto tempo a disposizione, essendo in isolamento, ho riflettuto molto, ho iniziato a dipingere in maniera anche molto così terapeutica, tirare fuori quello che sentivo e che percepivo e sicuramente questo si rispecchia in quelle che sono poi i miei querelli, i miei carboncini e si riflette in donne così, in volti femminili sempre vitali. Ecco, se diciamo quel fatto scatenante ha aiutato a far uscire la parte artistica che molto bene era già lì dentro, appunto aveva solo bisogno di trovare una valvola di uscita, quando poi è arrivata la tua espressione artistica ti ha aiutato anche nell'altra parte invece? Sì, parecchio, parecchio. Mi ha aiutato molto a acquisire una certa consapevolezza, conoscenza di me stessa. Devo dire che tirando fuori, dando voce ai miei pensieri più intimi, alle mie inquietudini, sono riuscita, come quando si scrive e si dà voce ai propri pensieri, a mettere nero su bianco, in tutti i sensi, con Acquarelli e Carboncini, quello che sentivo e ad aiutarmi ad acquisire una consapevolezza. Mi rispecchiavo nelle stesse donne, dagli sguardi intensi, forti, consapevoli di se stesse, più di quanto magari non ero io in quel momento. Insomma, un'arte che diventa quasi terapeutica per se stessa, ma non solo terapeutica, cioè proprio espressiva, salvifica. Esatto, salvifica. E questa è anche la mia speranza, possa essere uno spunto per chi si trova magari in momenti di difficoltà, che possa risvegliare magari in questi momenti quella parte di artista che è insita in sé, perché tutti noi nasciamo artisti. Everyone is an artist, diceva qualcuno, diceva anni fa, un certo World. So che questa cosa tu ne parli senza problemi, appunto, e anzi grazie per aver condiviso con noi, anche con un momento che insomma sicuramente non era stato semplice e che poi l'ho diventato, grazie forse, o meglio, semplice magari non è mai stato, ma diciamo è diventato digeribile, rimanendo in tema alimentare, grazie appunto alla tua arte. Ti capita mai di avere incontri magari con qualcuno che appunto ti dice, guarda, anch'io vivo quella situazione, anch'io sto… e magari appunto ispirato all'arte può migliorare? Sì, mi è capitato di incontrare alcune persone con lo stesso problema e ho sempre cercato ecco di raccontare quella che è stata il mio percorso e la speranza di portare in loro quella luce che io stesso ho ritrovato e che poi ha portato ad amare incondizionamente, non solo se stessi ma in generale la vita, ecco. Ma senti, adesso invece dici un po' cosa dovrai fare a Venezia, mi sono curioso di sapere cosa dovrai fare a Venezia e quando? Sì, allora, sono in procinta di partire, sono stata contattata da un gruppo di curatori di Genova, di Vulgarti Art Group, che ha selezionato una delle mie opere per una mostra collettiva presso Palazzo Pisani e Revedini, in Piazza San Marco e si tratta di un'appunto mostra collettiva intitolata tra Acqua e Cultura e Società e esporò lì dal 16 novembre fino al 30 novembre. Ah, ok. Sì, sarà visitabile ecco tutti i giorni. Beh, dove possiamo trovare mai qualche informazione appunto su come fare a seguire la tua arte e dove possiamo seguirti appunto? Sì, trovate tutto sulla mia pagina Instagram, Soffi d'Arte. Soffi d'Arte, bello, bel nome, gioco di parole interessante. Sì, con il mio stesso diminutivo Sofia, ma anche richiamo alla leggerezza, ecco, Soffi d'Arte, con l'underscore del totino basso finale e lì troverete tutti i miei aggiornamenti, anche una community su WhatsApp per rimanere aggiornati sulle mie prossime mostre ed esibizioni. Nella bio di Instagram tu dici la mia arte, poi dici la linea intorno ai miei pensieri. Sì, esatto, esatto. Penso che esemplifichi bene quello che è la mia arte, i miei disegni, linee sottili, semplici, molto minimal, ma che cerchino di racchiudere e di rappresentare una complessità, diciamo, più insita. Il tutto con una linea, pensa, cioè, non è semplice, eh. Discrivere la complessità con una linea non è per niente semplice. Fatevi un giro su Instagram, Soffi d'Arte, tutto attaccato con il trattino basso, è appunto il profilo di Sofia Giacomelli, dove potete trovare tutte le sue opere e anche seguire appunto dove andrai e che cosa farà nelle prossime mesi. Sai già se avrai altre mostre più avanti? Sì, ho un progetto in corso presso la fondazione di Alda Merini, probabilmente per il 2025, anche per le gallerie civiche di Monza, Seregno e Lucca. Sempre si tratterà di mostre personali. Vorrei portare Lampi, questo progetto, ecco, tra conflitti e consapevolezze, che è iniziato qui a Milano, nello spazio Chiamami, e portarla prossimamente in altre gallerie e fondazioni. Vero, molto, molto interessante. Sofia, io ti ringrazio allora di essere qui con noi questa mattina. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie mille davvero, facci sapere come va a Venezia, ma soprattutto appunto ti aggiornate sulle prossime tue presenze, magari anche qui in città. Sì, grazie mille e buona giornata a tutti. Grazie mille davvero a Sofia Giacomelli. Io lo dico sempre, ragazzi, speriamo che questi ospiti che noi abbiamo qui vi ispirino anche magari a tirare fuori la parte migliore di voi. Insomma, Sofia l'ha fatto in un momento anche nel punto difficile e voi magari lo potete fare per superare i momenti difficili oppure perché insomma lo sentite, avete quella cosa dentro che vorreste far uscire, ma non capite che cos'è. E magari è proprio quello, è la necessità di esprimere il proprio io più profondo. E noi siamo qua per darvi magari qualche ispirazione o qualche spintarella, se non proprio una pesante del cui come si dice a Milano, per cercare di darvi una mano a uscire dal guscio, che è questo fondamentale. Grazie ancora mille a Sofia Giacomelli, buona giornata Sofia. Noi adesso andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui con la sigla finale.